Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo inizio di video, io sono Mau e io sono Davide Oggi siamo qui perché andremo a sconfiggere Predator ragazzoli Come ho detto nel video in cui ve lo mostravo, si parla di uno dei miei film preferiti Quindi una serie di film preferiti ragazzoli, e vederlo qui su Fortnite e tanta tanta roba Eccolo lì, eccolo lì, appena diventato invisibile davanti ai miei occhi Cercheremo di ucciderlo ragazzoli, è veramente, ma veramente forte ragazzoli Come nel film quindi sarà un po' un'impresa sconfiggere, lì c'è il suo portale da cui è venuto, sentite anche i suoni che emette Scendiamo qua sotto ragazzi, ci saranno tante armi perché per batterlo è un po' difficile usare solo una pistoletta Quindi proviamo a scendere di qua, apriamo un po' allora, deve essere da quella zona lì Quindi attenzione, prendiamoci questo, serve per forza un pompa ragazzi perché se no è impossibile Non so ragazzoli se c'è il laser come anche nel film, non ne sono molto sicuro, mi sa che può essere solo invisibile Però proviamoci, allora qua abbiamo un po' di shit ragazzoli perché veramente è OP quindi Attrezziamoci bene, è lì un bel pump, quindi usciamo, eccolo qui, il pump, dobbiamo cercarlo L'ho visto in questa zona qui quindi, adesso mi fa un po' paura raga perché è invisibile quindi bisogna fare attenzione Sento qualcosa E' qui da qualche parte E' qui da qualche parte per forza Si 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 raga, sentite la canzoncina vero? E' qui da qualche parte E' qui, e' qui, e' qui, e' qui Raga Eccolo Uh Ok Ok, 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 ok Dove sei, dove sei? Sta qui sotto Vai, 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 dai che sei bloccato Ok Oddio Allora, finito i colpi di pompa, è un grandissimo problema Lanciamo un po' di granate E' un grandissimo problema raga E' lì, e' lì, e' lì, eccolo Eccolo lì, sta saltando Uh, raga, finito i colpi di pompa, un problema Eccoli, eccoli, eccoli Vediamo anche un nuovo pompa Dove sei, dove sei Predator Dove sei? Comunque ragazzoli abbiamo fatto veramente tanto danno E' qui, e' qui, e' qui E' qui da qualche parte Eccolo qui raga Spariamo, spariamo Eccolo qui, ucciso Attenzio Oh, eccolo qua Possiamo diventare invisibili Abbiamo anche sbloccato pre... Oh Ottimo raga, ottimo Possiamo stare invisibili per un tot di tempo Proprio più iniziamo a vederci No, vabbè raga Fantastico, come nel film Raga, come invisibile Ok, vi ricordo se questo vi piaciuto di lasciare un bel like Un commento, un'iscrizione E di supportarmi con il codificatore social Ma un nego soggetti di Fortnite Ah, ok Ah, quindi perdi di invisibilità Se cambi arma Cioè, perché c'ho le mani di Predator Tra l'altro? Ok, glielo staccate Ma dai Ah, e qua c'è una ricarica di 20 secondi Guardiamolo un po' nel dettaglio Penso che tutti lo conosciate Eccolo qui Questo qua sarebbe il timer dell'autodistruzione Davvero, davvero Ottimo idea quella di Epic Games E tutto ciò Vi ricordo di lasciare comunque di nuovo un like Un'iscrizione, un commento E noi ci becchiamo nel prossimo video Bella raga